Anni, oddio, mi hai spaventata. Mi dispiace, Mirella. Che cosa stai facendo? Sto preparando una festa. Il computer di bordo mi sta aiutando. Una festa? Ma che bello. Come mai? Ma dai, da che pianeta arrivi? Oggi è il 28 dicembre. Cavolo. Vero. Devo andare a fare un po' di spesa per il capodanno. Sei irrecuperabile. Ho capito. Tutti i luoghi d'arte statali sono aperti per l'intera giornata. Non ho parole. Sì, è vero. Però c'è anche un altro evento il 28. Dai. Ai ai ai. Mi trovi impreparata. Non so che dire. Ragazze. Attenti che fra poco ci sarà un blackout. Ecco, mancava solo quello. Ma che giornata. Ed eccoci tutti. Sorpresa. Buon compleanno, Mirella. Che sia una giornata favolosa. Proprio come te.